ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video sono in ritardo di 16 ore però vabbè volevo solo farvi gli auguri di buon anno a tutti voi che siete iscritti al canale volevo fare una live in realtà però il mio computer non è come quello di giacomo che usiamo sempre per fare le live sui giochi il mio si bagga che una meraviglia e quindi niente volevo farvi gli auguri di buon anno sperando che questo sia migliore del sia meglio del 2020 e niente buon anno a tutti bella